Cari amici, oggi farò il primo test col motore sul gommacino dell'Auziano. Il primo test con il gommoncino dell'Auziano, ancora ha bisogno di avere un uomo, compagnia del mitico Alex, per gli amici Alessio o Alessandro. Grazie a tutti. 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 Questi sono comodi comunque, che caso arrivi al porto, spegni, vai, torni, accendi, vai, not well. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mentre faccio svuotare la vaschetta del carburatore, vi saluto, sperando che questa sia la prima di una lunga serie di avventure folli, di grosse pescate. Da quel di Lanzarote, il dottor Alexio e il mister Albi Motor Fishing vi salutano.